brownie proteico e light prova la mia ricetta prendere due banane e schiacciarle a creare una purea con la forchetta 30 grammi di farina d'avena aromatizzata 30 grammi di proteine in polvere 30 ml di albume 30 grammi di cacao amaro mescolare mezza bustina di idrolitina un filo d'acqua sare nello stampino 30 grammi di gocce di cioccolato 5 minuti al microonde